Utilizzare le cellule del sistema immunitario per combattere il cancro, ma probabilmente domani per combattere altre malattie che sono legate alla disregolazione del sistema immunitario, è una nuova pagina della medicina che nasce da una storia di cui i due premiati sono straordinari protagonisti, Steve Rosenberg e Carl June. Mi fa anche piacere poter dire che in questa regione, proprio su queste ricerche, lo sviluppo di CAR T accademici, come Carl June ha detto è importante che ci siano accanto ai prodotti commerciali, vede proprio l'IRC San Gerardo e l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo insieme per avere sviluppato un prodotto che ha alcune caratteristiche innovative di CAR T che sono preparati con metodi non virali, sono preparati da donatori e non dal paziente e che hanno dagli studi clinici che sono stati fatti, confermato la loro efficacia al pari di quelli commerciali. Non c'è competizione, ma è solo dalla ricerca anche accademica che avviene il progresso e che quindi credo che oggi sia una giornata di straordinario valore perché è con la ricerca che abbiamo sentito che si potrà produrre beneficio, salute e cura per tutti i pazienti. E grazie alla collaborazione che il professor Carl June ha condiviso, grazie a questo premio, proprio anche con le nostre due istituzioni, credo che ci sarà un futuro straordinario di questa nuova pagina della medicina. Grazie a tutti.